Ci troviamo presso il cimitero monumentale di Bonaria, alle nostre spalle la cappella dove riposa la salma di Gigi Riva. Vediamo tutti gli omaggi che sono stati fatti al grande campione, anche quelli del Torino Calcio, ma soprattutto cercheremo di ripercorrere un po' quello che è il pensiero delle persone e i luoghi dove Gigi Riva era di casa. Era doveroso venire qui a rendere omaggio a chi ha dato un contributo così importante per la rinascita della Sardegna, a un grande uomo, un grande giocatore, veramente una persona d'altri tempi e di spessore. Io sono rimasto, per noi era come un padre e quindi ci ha insegnato tante cose e ha fatto sì che la Sardegna uscisse fuori da quel torpore che aveva tanti anni fa. E noi lo ammiriamo come giocatore e come uomo e ancora siamo increduli, però si dice che il mito vive per sempre e quindi per noi siamo sicuri che lui viva per sempre e che anche fra cento anni si parlerà di lui. Questa fa parte dell'immortalità di una persona. Io lo conosco da ragazzo appena arrivato a casa dagli anni 60 e so di che parte l'ha fatto e come si comportava con tutti. La sua forza è stata anche la sua coerenza soprattutto. Senza dubbio sì, quello gli ha portato molti punti in alto di altri personaggi che pur per il soldo o per altre cose, se non voglio essere polemico, ma Gigi è un'istituzione, è un sardo nato come se fosse nato in Sardegna. Lo sente nel cuore, l'ha sempre sentito, l'ha difeso con tutti, ha avuto anche dei grandi maestri tipo Cenzo Osoro, tipo Professor Sidi, persone che di sport ne masticavano e venivano sempre con i giovani.